Che cazzo di rimbalzo ci hai fatto, scusami. Io ne ho altri due qua sopra, mi sa. Sì, che cazzo. Sì, che cazzo di rimbalzo ci hai fatto. Non è servito, ha fatto un doppio headshot in faccia con un Rafi. Non so se ha il compagno. Cioè, è Rihanna? No, è una donna, non so. Eh, wow, è shotissimo. Perché cazzo? Ha dei beveroni da darti comunque. Sì, sì, ma... No, non ho capito perché non... Non mi ha costruito. Sta arrivando qualcuno? No, non arriva più. No, non arriva qua. Stare del beveroni. Ho lasciato qua sta scendendo. Ma qualcuno lo sta pushando male. Ma se, intanto ho tentato di cecchinarmi. No, è un suo... Un suo negro compagno. Dietro. Est. Cecchinata è arrivata da là. Bene, bene, andiamo. Facciamoci. Niente di più facile. No, è sopra. Alberi. Dai, quello colpo era precisissimo. 59! Stavano cecchinando qualcuno sotto. Facciamo una posizione in merda. Oh. Non mi fa chiazzà. Non ci sono più, mi sa. No, sono saliti ancora di più. Uh, ce n'è uno... Ce n'è due gli alberi qua. No, cazzo. Cosa è atterrato? Eh, scusa. Mi ha dato a mare e poi un fucelata. Un piccazzo continuano a cecchinar solo noi. Sono morti, sono morti, mi sa. Uno sì, l'altro no. Uno sì, l'altro no. Adesso sì. Ok, ok, da ovest... Sta arrivando qualcuno. Ah, no, ma è... No, niente, scusa. C'è un'altra montagna lì in mezzo. Eh, a volte non ti ho visto, caro. Non ti ho visto. È sempre là sopra quella di metallo, no? No, no, ma ce n'è uno sotto in quella di Regno. Ah. Ce sono altri due a nord-est 50 che hanno costruito una roba di Regno 2, due piani. Sotto? Ah, ok. Sì, sì, sotto, sotto, scusa. Parca puttana, ti vado in bastardo. Paga, scida, n***a. Sai che mi perso di vedere qualcuno anche a sud? Forse dietro la roccia, ma non ne sono sicuro. Un'altra. Oh, sì. A sud. A destra è la roccia. C'è della montagnola, scusa. Adesso c'è un albero in mezzo, non lo vedo più. E ce ne sono altri due che forse lo pushano. Sono sotto, eh. Ok, uno è morto. Ne è rimasto solo uno, mi sa là. Ma due, sono due. Sono due. Sì, sì, però... Occhio, è che c'ho sempre dietro le persone. Non mi sta mirando col cecchino, sicuro. Sono in due o uno? Due. L'altro era per terra. Allora quelli là dietro l'hanno ammazzato. Eccolo dietro la roccia che sta scappando. La roccia sinistra. Jump... jump pad. Qui qua dietro. La roccia sinistra. Sono sopra. Mauro. Oh Cristo! Buono. Beh, comunque sono di là, eh. Sono nervissimo. Sto albero... Mi fa mirare un cazzo, non mi fa mirare. Sì, sì, bravo. Continuiamo a sparare con quella merdata. educator... Buono! Sì, sì, sì... Sì. Sì, 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 sì... Paola,ijke! Una avanzata E' one shot con la sinistra Fatto Buona Ciao batti Grazie per aver seguito il video Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace E di condividere Inoltre se non siete ancora iscritti Vi ricordo di iscrivervi qui sotto E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao